L'uso della parola devastazione per definire una tipologia di reato e per il quale è previsto una pena molto severa, nulla a che fare con quanto effettivamente è accaduto a Nocera in occasione dell'incontro di calcio con la squadra del Perugia. In quella circostanza, infatti, un nutrito gruppo di tifosi della squadra ospite raggiungeva a bordo di autoveicoli il quartiere Arenula. Appena scesi dalle auto, armati di bastoni di spranghe in ferro e con il volto coperto da caschi, hanno creato momenti di panico tra quanti si trovavano per strada. Hanno iniziato a distruggere quanto capitava davanti a loro, oltre ad aggredire i passanti. Da ciò è scaturita la reazione di difesa, letta tra virgolette, da parte dei tifosi locali in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Ne sono conseguiti scontri tra opposte tifoserie nei quali sono stati coinvolti anche gli agenti di polizia. Alla fine la situazione a distanza di ore tornava alla normalità. Già solo questo fa capire quali fossero le intenzioni dei tifosi ospiti che vanno in trasferta. Ebbene, a distanza dei mesi dall'accaduto, dice il signor Mario Vitolo, attraverso l'utilizzo dei filmati e delle telecamere installate nel quartiere sono stati emessi ordini di arresto nei confronti dei tifosi della Nocerina che si trovavano sul luogo degli incidenti. Mi sembra davvero molto strano, molto molto strano, che nessun tifoso del Perugia invece sia stato raggiunto da alcuna ordinanza di arresto. Tengo a precisare che anche mio figlio risulta coinvolto tra le persone detenute in quanto appare presente sul posto. La circostanza, e forse la colpa, è quella di risiedere nel quartiere Arenula e che al momento degli scontri si precipitava verso l'esercizio commerciale bar condotto dalla sorella per verificare se ci fossero stati danni alle persone e alle cose di aver spostato la propria auto parcheggiata sul luogo per evitare che fosse danneggiata. Tutto questo è stato filmato dalle telecamere e sicuramente non rappresenta un reato. Qui non voglio indossare nel modo più assoluto la toga dell'avvocato, ma sicuramente degli interrogativi si pongono, ovvero per usare una frase frequente e comune. La domanda nasce spontanea. Perché la sola presenza sul posto degli incidenti di persone che nulla hanno commesso come si evince dai filmati deve essere considerata un reato? Perché i reati previsti per la violazione della legge sulle manifestazioni sportive debbono essere ricondotti ai reati previsti per la devastazione? Perché le forze dell'ordine a corse sul posto non hanno riportato i fatti così come sono accaduti, secondo il signor Vitolo, facendo risultare che gli unici colpevoli sono stati i tifosi della nocerina? Non voglio e non devo minimamente pensare a una forma di accanimento dell'affannata e spietata ricerca di colpevoli e di infliggere condanne a chi nulla ha commesso, né collegare questa situazione con quanto avvenuto poco tempo fa a Salerno in occasione della gara con la nocerina dove chi doveva gestire e garantire la sicurezza, a mio modesto giudizio, dice sempre il signor Vitolo, non è stato all'altezza della situazione. Allora, mio malgrado, dice ancora il papà di Salvatore, se così fosse quella parola devastazione di una durezza unica nel suo significato, tanto evidenziata e riportata dai mezzi di comunicazione, la si deve associare non al reato previsto, quanto piuttosto alla mancata affermazione della verità che si tramuta di conseguenza in ogni cittadino nella mancanza di giustizia. Grazie.